Ci siete? Io non vedo assolutamente niente, sono accecata da queste luci. Sono Alessandra Contin per Italian Tech, che è praticamente il gruppo J di La Stampa, La Repubblica e Il Secolo. Mi occupo di cultura videoludica e lo faccio da ben 23 anni. Oggi sono qui con delle ospiti, alcune le conosco da molto tempo. Sono tutte donne perché parleremo di inclusione, ma inclusione parlando proprio lavorativa, all'interno del nostro settore. Quindi chiedo per favore di venire sul palco a Elisa di Hinton Games, Buongiorno a tutti. Ad Arianna di Nova Games, a Eva di Hydra Interactive, e a Maria Luce di Xbox Microsoft. Siamo qui con delle addette ai lavori, alcune da molto tempo, e chiedo, partendo da Elisa, di fare una breve presentazione di lei e di cosa fa nel suo studio, e così andremo avanti. Allora, prima di tutto, grazie di avermi voluta qui oggi. Mi chiamo Elisa Di Lorenzo, sono confondatrice e amministratrice di Hinton Games, uno studio di sviluppo che ha sede a Genova. Ho fondato lo studio insieme a dei compagni di università, tutti laureati in informatica, quindi ho iniziato la mia carriera come programmatrice di videogiochi, poi passando alla gestione dei progetti, e oggi mi occupo sia della gestione dello studio, del business e della gestione dei progetti. Però non sono più una programmatrice, purtroppo, oggi. La società si occupa dello sviluppo di videogame, sviluppiamo i nostri videogiochi, ma forniamo anche servizi di sviluppo per terze parti. Al momento siamo particolarmente focalizzati nel fornire servizi, come ad esempio il porting, per varie piattaforme. Tra i giochi a cui abbiamo lavorato di recente ci sono, ad esempio, a sette corsi a competizione per Gen9. Abbiamo lavorato sulla versione Game Pass PC di Control, abbiamo lavorato su Journey to the Savage Planet per Switch, e vari altri giochi. Arianna? Ok, intanto buon pomeriggio a tutti, grazie anche Alessandra, insomma, di averci volute qui. Io invece ho cofondato Novice Games, che è una piattaforma di gioco accessibile a persone cieche e ipovedenti. Abbiamo iniziato sviluppando giochi senza interfaccia grafica, quindi esperienze di gioco basate sul suono e sulle vibrazioni, e nell'ultimo anno, anno e mezzo, adesso stiamo aiutando le aziende a creare una modalità accessibile dei loro videogiochi, attraverso proprio un vocabolario di suoni che stiamo costruendo insieme a una community di persone cieche e ipovedenti. Noi non siamo propriamente qui in uno studio di sviluppo di nuovi videogiochi, soprattutto con la svolta che ha preso il progetto negli ultimi anni, ma sono molto felice di dire che abbiamo una missione sociale importante e stiamo cercando di trovare di fatto una soluzione a questo problema, cioè il fatto che il gaming non sia ancora un'industria così accessibile. Io mi occupo della parte amministrativa, contabile purtroppo, ma anche di direzione del progetto e del team. Sono l'unica donna per il momento all'interno dell'azienda, ma spero insomma presto di poter allargare insomma tutto il team, sia di sviluppo che di parte insomma commerciale, a figure professionali più eterogenee possibile. Grazie ancora. Buonasera a tutti, io sono Eva Sturlese, studio manager di Hydra Interactive Studios. Intanto grazie per l'invito a Prestart e Alessandra. Hydra è uno studio di sviluppo con sede a Roma e ci occupiamo primariamente di Applied Games. Nel corso degli ultimi anni è stato fondato nel 2020, quindi abbastanza giovane come studio. Abbiamo sviluppato diversi progetti, quindi con un fine non di intrattenimento, ma di divulgazione primariamente culturale e scientifica. L'ultimo progetto grande a cui abbiamo partecipato e che abbiamo prodotto è Behind the Light, The Extraordinary Life of Luca Comerio, che per farvi un esempio appunto dei progetti su cui lavoriamo di solito è stato sviluppato in collaborazione con Cinetaca Milano e basandosi su una delle loro collezioni interne, che faceva riferimento appunto, fa riferimento perché tuttora ovviamente all'interno di Cineteca, alla vita del pioniere del cinema Luca Comerio e ai suoi film che ha avuto modo di girare in determinati eventi storici e artistici nel Novecento, tra cui la Prima Guerra Mondiale. Il giocatore può quindi visitare all'interno del gioco appunto con un'esperienza immersiva in 3D tutta la Cineteca ricostruita in Unity e avere modo anche di imparare le tecniche per la ricostruzione dei film storici. Quindi questo è un esempio di quello che facciamo in Idra e appunto il nostro focus primario è la divulgazione scientifica e culturale dei videogiochi non solo come medio di intrattenimento ma come strategia di gamification. Maria Luce, tu lavori in Xbox, quindi mi sa che non dovremmo presentare però presenta un po' tu e cosa fai? Esatto, allora io sono appunto Maria Luce Garzaro e lavoro, ho avuto la fortuna che il mio lavoro è sempre stato nel mondo dell'intrattenimento. In Microsoft dal 2015 ho avuto una pausa di due anni sempre nell'intrattenimento diciamo più video streaming e sono tornata in Microsoft quest'anno con un nuovo ruolo sono l'Xbox Subscription Category Manager per il Sud Europa e quindi per chi non conoscesse sotto il cappello delle subscription rientrano tutti il mondo Game Pass, PC Game Pass, Game Pass Ultimate e appunto di scuola mia azienda non ha bisogno di presentazioni neanche il brand per cui lavoro ed è una grande fortuna è molto bello essere qui vorrei ringraziare Talita e Alessandra per l'opportunità è un piacere. Allora, non so quanti di voi sanno quasi tutti sanno che in Italia gli occupati nel settore, nella game industry sono circa 1600 più o meno dall'ultimo censimento secondo me è sottostimato nel senso che soprattutto in questi ultimi due anni gli studi hanno aumentato il loro organico di questo organico però si sa che il 23% è una componente femminile in tutti i ruoli le donne si possono trovare in tutti i ruoli volevo sapere dalle nostre ospiti soprattutto da chi è più dentro l'ambiente come è cambiato soprattutto negli ultimi cinque anni questa componente se avete visto un aumento una diminuzione più interesse contate che nel mondo la componente femminile della game industry si testa intorno al 20% in Europa intorno al 21% siamo molto al di sotto ad esempio dell'industria dell'animazione quindi vi do la parola chi vuole iniziare? inizio io? allora diciamo che sicuramente la mia percezione personale è che ci sia più interesse da parte di ragazze nel lavorare nel nostro settore la realtà poi dei fatti però del mio studio è un po' diversa rispetto a quelle che sono le percentuali a livello italiano perché ad esempio noi siamo 22 oggi interni più un altro 5 persone che lavorano abbastanza stabilmente con noi esterne e siamo solo due donne quindi io che lo studio l'ho formato l'ho formato di fatto e una programmatrice durante gli anni noi siamo uno studio che è molto tecnico quindi la maggior parte del personale all'interno del nostro studio sono programmatori abbiamo pochi artisti non abbiamo chi si occupa internamente di marketing ma abbiamo chi si occupa di produzione quindi project management e cose del genere però quindi siamo un pochino più sfasati come 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 skill del team su più tutta una parte tecnica nella nostra vita quindi da da quando lo studio esiste abbiamo avuto praticamente programmatori da donne quindi io non ho mai ho ricevuto solo due curriculum vite di programmatrici donne mentre per quanto riguarda artiste invece abbiamo ricevuto sicuramente più più application diciamo che in ambito programmazione credo che si stia muovendo qualcosina che ce ne siano di più comunque parlando anche con altri studi loro hanno iniziato ad assumere molto più donne perché si presentano più donne comunque quindi qualcosa si muove la realtà del mio studio purtroppo è quella che in realtà noi non al momento ci sentiamo un po' sole però sicuramente secondo me l'interesse che vediamo esternamente c'è è anche vero che voi siete uno studio estremamente skillato in modo tecnico l'apertura io vorrei sentire anche le altre che probabilmente hanno componenti più sulla parte artistica manageriale e di marketing sì magari su questo mi infilo io quello che la mia esperienza è di sicuro non è l'esperienza che ha Alessandra che è nel settore da molti più anni e non ho lo storico per poter aver visto un'evoluzione così lunga quello che voglio portare un messaggio di ottimismo innanzitutto di sicuro ho il privilegio di aver potuto accedere a questo mondo in un'azienda che è molto attenta a questi temi e per cui non ho trovato chiusure dall'altro quello che posso testimoniare è sicuramente che i primi anni io mi occupavo più della parte di comunicazione che quella di prodotto ed era veramente trovare delle influencer trovare delle persone con cui lavorare che fossero femminili in questo settore appunto che fossero donne del settore era veramente per le rare e oggi invece questa cosa è molto più semplice riusciamo anche noi anche quando pianifichiamo eccetera riusciamo a trovare un bilanciamento e anche le persone che vengono che sono fan riscontriamo che le donne sono molte di più quindi ovviamente c'è ancora molto da fare è chiaro che è o meno storico ecco sì appunto io mi collego un po' sia al discorso di Elisa che alla fine di Maria Lucia perché noi siamo un po' nel mezzo nel senso che siamo una realtà giovane che è sul mercato da pochi anni ufficialmente due o tre anni quindi non abbiamo neanche noi lo storico per avere un'analisi un pochettino più completa di quello che è stato dall'altra parte abbiamo anche la fortuna di poter coinvolgere le persone in aree diverse a me anche purtroppo è capitato pochissime volte di ricevere application di programmatrici donne che appunto è un problema cioè torniamo al discorso iniziale i numeri sono chiari bisogna prenderne atto c'è un problema evidente dall'altra parte sto vedendo anch'io che da piccola azienda comunque iniziamo piccole e medie grandi aziende a farci attenzione quindi a porre l'accento su questa tematica e a cercare di coinvolgere il più possibile nel corso del tempo anche noi abbiamo collaborato devo dire più in via esterna soprattutto con sound designer o persone che si sono occupate magari più della parte manageriale di coordinamento di progetti che abbiamo fatto sulla parte di programmazione devo purtroppo anch'io insomma dire che come immagino sia successo Elisa non abbiamo avuto tutta questa possibilità anche di scelta proprio che è un gran peccato perché alla fine quello che a me resta è una mancanza di potenziale inespresso perché io non voglio credere ecco che quei numeri rappresentino la realtà semplicemente quello che penso io insomma è che purtroppo ci sono tante ragazze tante persone che non sono riuscite a immaginarsi in quel ruolo e che quindi purtroppo hanno rinunciato a una loro passione che poteva essere programmare giocare ai videogiochi fare un certo tipo di sport vedersi in un certo tipo di settore anche come game designer o producer esatto non solo come programmatrice nel senso che per fortuna ragazzi sappiatelo questo è un mondo molto variegato che va dal marketing alla comunicazione fino alla programmazione sotto tutti i punti di vista che non è solo la programmazione in Unity che ormai va tanto di moda o in Unreal in noi siamo Unreal quindi ah tu sei Unreal quindi insomma è un campo e va molto variegato tu che sei forse la più giovane cosa ci puoi dire confermo questa questa cosa nel senso che io personalmente sono entrata a contatto con il mondo dei videogiochi a livello lavorativo tramite la mia specializzazione in traduzione quindi ho iniziato come localizzatrice e sono entrata poi in Idra Interactive Studios anche grazie al skill che ho sviluppato in ambito linguistico e ho notato comunque anche negli ultimi diciamo anni anche se in realtà è relativamente poco tempo che io sono all'interno del settore che anche nelle professioni diciamo affini che magari collaborano più come freelancer e non come core team all'interno dello studio di sviluppo come possono essere appunto i localizzatori che la componente femminile comunque sta aumentando nel senso che negli ultimi tempi c'è proprio un'attenzione anche proprio solo a livello di categoria anche con associazioni come potrebbe essere appunto Women in Localization e altro che c'è proprio un'attenzione diversificata molto più diretta verso i compartiti o appunto il settore videoludico e questo sicuramente è un incentivo anche dal punto di vista della rappresentazione di genere anche per diciamo porsi il problema alla base infatti vorrei proprio partire dalle basi 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 proprio terra a terra quando raccontiamo alle ragazze e alle bambine proprio piccole che poi andranno insomma a scegliersi questa benedetta università ma tu giochi ma giochi ai videogiochi vorrei sapere da voi soprattutto dal momento che lavorate in questa azienda così rassicuriamo tutte le ragazze e le bambine che giocano quante volte vi hanno posto questa domanda non all'interno delle persone che conosciamo perché il nostro ambiente piccolo ci conosciamo tutti e sappiamo tutti che giochiamo e quanto abbiamo giocato nella vita ma quando siete fuori no e dovete raccontare il vostro lavoro a persone che magari l'ambiente non lo conoscono e hanno una certa idea del videogioco come reagiscono e cosa gli dite soprattutto parto io sì direi che è esattamente la prima domanda ma tu giochi e a seguire c'è dell'incredulità fortissima ed è come se improvvisamente ci fosse un po' un appunto non rispecchi l'immaginario e quindi immediatamente scatta questa incredulità e credo che una piccola parte del nostro ruolo sia anche quello di dare voce quindi essere un po' ambassador di questa opportunità e di questo mondo pazzesco a cui io personalmente mi sono appassionata più da grande ma ce ne ho proprio trovato appunto non ci deve essere un pregiudizio e il pregiudizio alle volte sia indotto che prodotto da un sistema in cui siamo dentro però assolutamente la primissima domanda e dopo continuiamo solo un secondo te e dopo quando tu gli spieghi non è solo che giochi ma proprio tu lavori con i giochi assolutamente lì parte secondo me un misto tra curiosità e stima e purtroppo devo dire in realtà questo ovviamente da una componente maschile dell'interlocutore la componente femminile è molto più difficile che che dica ah sì ma che si possa instaurare una conversazione su quello magari di giochi a cui ho lavorato i giochi a cui giochi questa cosa perché c'è sicuramente una distanza culturale della componente femminile in generale quindi anzi la maggior parte delle volte ne perde l'interesse e quindi la maggior parte del pubblico femminile perde l'interesse poi continuiamo a me veniva proprio anche da fare un parallelismo visto quanto hai detto con lo sport io arrivo prima che dal mondo dei videogiochi dal mondo insomma del calcio gioco da quando sono bambina e mi hai ricordato quando ad esempio raccontavo ai miei compagni di classe cioè che non solo tifavo il torino e andavo allo stadio con papà ma io a calcio addirittura ci giocavo ecco vedevo quello stupore lì quella cosa quella curiosità mista incredulità del tipo ma veramente ma una cosa incredibile ecco secondo me è il nostro ruolo oggi non è soltanto dimostrare che si può fare cioè dimostrare che ragazzi miei non è incredibile cioè lo puoi fare tu puoi giocare a calcio puoi giocare a fifa puoi giocare a qualsiasi videogioco bene lo può fare anche una ragazza quindi un po' questo secondo me il tema che va scardinato cioè dimostrare che una ragazza che gioca ai videogiochi non ha niente meno di un ragazzo che gioca ai videogiochi ma soprattutto oggi non ha nulla di più cioè non ci deve essere più secondo me neanche questo stupore ci sono i numeri che parlano chiaro noi siamo qua anche credo per rappresentare il fatto che c'è un problema in questo settore piano piano secondo me quando verrà normalizzato il tutto e non ci sarà più quella domanda incredula con la faccia stupita allora lì secondo me potremmo essere soddisfatte nel dire ok forse allora non c'è più un problema non bisogna più porre l'accento sul tema purtroppo non siamo ancora lì è anche vero che diciamo non c'è più credo almeno parlo per me negli ultimi anni l'insulto la presa in giro piuttosto c'è addirittura quell'interesse esagerato come se si trattasse di una cosa incredibile quindi un pochettino ci stiamo muovendo secondo me anche nella direzione giusta e voglio anch'io portare insomma un messaggio positivo in questo senso della mia esperienza sì no concordo pienamente più che altro appunto è proprio questa dimensione di stupore che quando poi capiscono effettivamente interlocutori sia ovviamente donne che uomini che cosa fai allora lì però è necessaria una spiegazione e questa cosa però ha anche una base diciamo di appunto del fatto che sei una donna perché probabilmente se fosse stato chiesto ad un uomo non sarebbe stata necessaria la spiegazione di che cosa effettivamente fa a livello di ruolo perché spesso almeno a me è capitato che appunto dovesse spiegare proprio quali erano magari le mie mansioni all'interno del settore e tutto perché l'incredulità era tale che non non si spiegavano magari indipendentemente dall'età anagrafica del mio interlocutore che cosa io effettivamente stessi facendo non avendo io un ruolo ovviamente tecnico e quindi non non avendo un ruolo relativo allo sviluppo o magari al comparto artistico almeno questa è stata la mia esperienza in generale secondo me comunque non è diciamo che è un po' una problematica questo tipo di atteggiamento di tutte quelle cose che vengono in gran parte erroneamente percepite come cose non da donne perché comunque sia anche se ti metti una maglietta di Star Wars iniziano ti fanno il il terzo grado per controllare se sei veramente fan perché la metti ma perché devi essere veramente fan e allora c'è parte il terzo grado su quelle cose che devi dimostrare di sapere per poter essere parte del club però un ragazzo che si mette una maglietta di Star Wars non fanno il terzo grado normalmente scusa ti posso raccontare solo mi è venuto proprio un flash un giorno all'aeroporto avevo la maglietta di Los Santos uno mi ha rincorso e mi ha fermato dicendomi ma tu sai almeno che cos'è e io l'ho guardato e gli faccio ah bello io ho le chiavi della città vedi un po' te chi deve sapere sa hai ragione comunque questo è Star Wars ci stava diciamole le bambine che possono mettersi la maglietta di Star Wars continua Lisa no quindi appunto c'è un pochino questa cosa un po' succede poi in realtà la questione nel mio caso sul quando scoprono e faccio videogame credo di solito la cosa principale è un po' di stupore ma credo che sia anche più che altro perché non si rendono conto che ci sono aziende di videogiochi in Italia quindi forse improvvisamente c'è tipo ma facciamo videogiochi anche qui quindi c'è anche un po' questa cosa tipo ma incredibile e adesso ormai è anche abbastanza ad alto livello no? sì sì no ma infatti abbiamo delle porting control sì però c'è le persone che conoscono tantissimo anche della scena italiana secondo me quindi o se no mi chiedono ah ma giochi mobile cioè quelle cose così o fate giochi mobile o cose del genere quindi non ti è mai capitato che o a voi non vi è mai capitato ah giocate sì alle caramelle no? no? non ancora ma dai capiterà ehm convinciamo queste ragazze che vogliamo numerose ai prossimi incontri di recruitment a mettersi in gioco in tutti i campi nel senso convinciamole anche magari a intraprendere questo percorso se tu se voi doveste fare uno spot un po' come mentori per convincere una giovane e una giovanissima che eh questo è un lavoro come può essere un lavoro come molti altri eh senza farci sopra mitopoiesi però primo a continuare a giocare secondo a mettersi in gioco come fareste parte la signora Microsoft lavorando a tutti me quindi facciamo andare alla corpora allora in realtà è un'ottima domanda nel senso che io spesso mi chiedo qual è il mio ruolo sono appunto lo riconosco sono in una posizione privilegiata in generale non parlo solo aziendale ma parlo anche culturale vivo in una città dove si fanno questi eventi dove c'è modo di parlare di queste cose dove c'è modo di conoscere persone che che operano in questo settore quindi di sicuro la primo il mio primo pensiero è qual è il mio ruolo in questo e come posso farmi portavoce e sicuramente anche questa opportunità di essere qui oggi mi ha dato modo di pensarlo e dicevo a me stessa il mio primo ruolo è di parlarne il mio primo ruolo è che quando penso io ho dei nipoti maschi e femmine il mio nipote gli ho regalato subito la console non l'ho pensato di regalarlo ai miei nipoti e questo è stato e questo è stato il mio primo il mio primo campanello d'allarme ho detto ma perché quando voglio dire non ho mai non ho mai visto non li vedo diversamente quindi il mio primo sforzo verso me stessa è rendermi conto di essere in un contesto privilegiato e farmi portavoce alle volte anche in cose più piccole di quelle che pensiamo veramente dal semplice gesto e dal tornare a casa e raccontare alle mie nipoti o alle mie amiche che cosa faccio perché lo faccio perché mi piace quali sono le cose che mi appassionano e forse ci si renderà conto che il mondo dei videogiochi è veramente più vasto e di quello che l'immaginario potrebbe banalmente portare a pensare e questo secondo me potrà avvicinare tanto tante persone interessate a comunque quello che io trovo un universo meraviglioso chi vogliamo partecipi ha detto insomma delle cose piuttosto importanti quindi io sono estremamente d'accordo con lei secondo me se si ha la fortuna di avere quell'impatto diretto sì bisogna partire e dire ma aspetta la conosci l'Elisa lei fa questa cosa qua o Elisa Farinetti di Broken Arms esiste questa cosa funziona e poi è ovvio che anche riuscire ad arrivare con questo messaggio un pochettino più dal basso io ce lo raccontavamo prima il fatto che magari adesso di certe cose certe storie ne sentiamo parlare anche se lo vediamo il video su Instagram della bimba che gioca a FIFA col papà ecco io non ce l'avevo quella con l'immagine lì quando ci giocavo io con mio padre Toro Juve adesso il fatto che esista dici aspetta un attimo quella bimba si sta divertendo e si fa arrabbiare suo padre perché lo batte divertentissimo allora io magari ho 12-13 anni e dico aspetta allora coltivo la mia passione quindi sono delle piccole cose io sono d'accordo con lei che fatte tutti insieme poi fanno la differenza perché tra magari 3-4-5-10 anni diventa la la normalità e creiamo dei role model per cui nella testa proprio delle bimbe è una cosa normalissima poter giocare a un videogioco addirittura potersi immaginare in un qualsiasi ruolo come diceva Alessandra all'interno dell'industria io ovviamente sono d'accordo volevo parlare di un aneddoto che mi è venuto in mente che non è strettamente legato ai videogiochi ma all'informatica nel senso che quando io perché io comunque sia ho potuto sempre esplorare le mie passioni ho potuto studiare volevo fare la programmatrice dei videogiochi da quando ero piccola quello lo sapevo lo volevo fare quindi ho fatto il perito tecnico industriale per periti informatici poi ho fatto informatica e la mia famiglia ha sempre supportato questo perché comunque sia non c'erano problemi per i miei genitori in questo quando mi sono iniziata in università una mia compagna in università aveva 33 anni e lei praticamente si era lei non aveva potuto fare informatica quando era arrivata al momento giusto di diplomarsi perché la sua famiglia non voleva la sua famiglia non voleva che lei facesse informatica perché non era una cosa da donne quindi se vuoi che ti paghiamo gli studi devi fare una cosa che secondo noi ha senso che tu faccia e quindi ha studiato lettere si è laureata in lettere ha iniziato una carriera e all'alba di 33 anni ha detto ma sai cosa basta ha lasciato il lavoro che aveva si è messa a studiare informatica e adesso lavora in università però appunto è stata a quel punto era una donna adulta che aveva le capacità e i mezzi per poterlo fare da sola e ha deciso di intraprendere questa strada e cambiare quindi quello che stava facendo si è laureata in informatica e tutto però io penso la fortuna che ho avuto io da ragazzina comunque a crescere in un ambiente che ha fatto sì che io potessi coltivare le mie passioni e decidere quello che volevo fare da grande e nessuno mi ha mai fermato e detto ma no quello non lo puoi fare perché sei una ragazza e questo succede comunque ancora oggi in molti casi con molte ragazze quindi quello è sicuramente il fattore primario quindi quando diciamo di cercare di evitare appunto di utilizzare questi brutti stereotipi e caderci noi stessi cioè lasciamo che le ragazze possano scegliere quello che vogliono fare e sappiano anche che possono farlo che non devono accettare che qualcuno dica a loro che non è il posto per loro poi ovviamente secondo me questa cosa vale anche per gli uomini in altri settori perché comunque sia ad esempio ancora oggi se uno vuole fare il maestro probabilmente di scuola lo viene visto male è una cosa da donna fare il maestro fare la maestra non il maestro quindi di sicuro poi questa cosa in altri settori si rispecchia anche sull'altro genere però la cosa principale appunto è fare in modo che le persone sappiano che possono scegliere questa carriera possono scegliere e chi sono non va a inficiare e a precludere di poter essere parte di questo mondo che è un mondo molto bello è un mondo complicato perché secondo me è abbastanza complicato è un lavoro matto a volte però è un lavoro che dà anche tantissime soddisfazioni per me ad esempio è un lavoro che ti permette di non lavorare mai sulla stessa cosa in realtà quindi non ti annoi mai impari continuamente qualcosa hai la possibilità di creare qualcosa e creare qualcosa che poi farà felice qualcun altro quindi è un mondo meraviglioso Eva vuoi aggiungere qualcosa anche tu dai aggiungi no sì concordo ovviamente con quello che hanno detto loro diciamo che appunto credo che la chiave di tutto la situazione sia affidarsi anche a raccontare la propria storia prima di tutto in chiave singola e poi a cercare di anche portare magari nelle scuole o comunque fin da quando i bambini e le bambine iniziano ad entrare in contesti sociali più ampli dei modelli a cui potersi riferire sicuramente la chiave per modificare la cosa sia in questo campo che negli altri anche io devo dire una cosa molto veloce ho un tot nipoti due no non tantissimi in realtà due hanno poi studiato design e uno game programmer uno ha fondato una delle grossi studi italiani l'altro comunque lavora come experience design quindi tutti nel settore l'unica che non lavora nel settore è la più grande nipote femmina però già le più piccole hanno già deciso di fare tutti e due per esempio studi scientifici una da quando aveva 11 anni ha deciso che lei vuole diventare fisico sperimentale non chiedetemi perché ma quello è e continua adesso alle superiori e continua con quell'idea lì perché era partita sin da piccola quindi probabilmente se per tornare proprio a questo discorso se l'ambiente che ci circonda non è attento alla divisione di generi probabilmente il genere non esiste o comunque non esiste l'inclinazione a certi atteggiamenti o lavori che vengono percepiti di genere è molto importante costruire un campo inclusivo in cui il genere è l'ultimo dei nostri problemi per fare questo però c'è anche bisogno di qualcosa che si chiama rappresentazione stavamo prima parlando fuori con loro che ci sono stati dei momenti nel videogioco che hanno determinato dei punti per cui una ragazza o una bambina o una giovane donna si ritrova benissimo abbiamo visto tra i giochi preferiti Life is Strange ma potrei citare Sanua di Hellblade oppure Ellie sono figure femminili a noi secondo me un po' meno però quelle che ho citato sono figure femminili che ci rappresentano cioè noi le troviamo tutte quante potrei dirlo estremamente vicine perché non sono posticce quanto è importante avere rappresentanza grossa femminile negli studi per evitare di avere figure femminile nei videogiochi che ci sembrano addirittura a noi un po' appiccicate lì tipo quota rosa o quota in inclusione o quota quota direi che è fondamentale nel senso che noi viviamo un po' come un un po' un problema ovviamente il lavoro che facciamo lo facciamo comunque lavoriamo bene però discussioni interne ne abbiamo avute sul fatto che comunque sia non riusciamo a avere una certa diversità nel team questo perché comunque sia le persone normalmente alla fine si scelgono tra uguali scegli qualcuno che è abbastanza simile a te quindi quando assumi le persone molto spesso si tende ad assumere persone magari che sono simili a te quindi se avrai sempre degli uomini che fanno le assunzioni è più probabile che vadano a scegliere le persone con cui loro si troveranno a loro agio o fare determinate cose quindi c'è un po' la necessità di uscire da quegli schemi e poi in generale noi ci rendiamo conto che se abbiamo tutti più o meno scegliamo sempre persone che sono simili a noi avremo sempre gli stessi punti di vista o comunque sia dei punti di vista abbastanza omogenei sulle cose quindi essendo il nostro un campo estremamente creativo la diversità dei punti di vista è una cosa assolutamente necessaria oltre al fatto di essere un mondo di creatività c'è anche il fatto che comunque sia siamo un mondo che rispecchia anche quello che sono tantissime problematiche sociali molto spesso perché nel videogioco così come nel cinema si parla di attualità molto spesso quando si dice di tenere la politica al di fuori dei videogiochi è follia secondo me perché il fatto stesso di non includere la politica è una scelta politica quindi ogni cosa ogni cosa che viene fatta da un essere umano che dichiara qualcosa è in qualche modo una scelta politica quindi la varietà delle voci all'interno di un team portano solo che ricchezza e quindi è assolutamente una cosa che dobbiamo cercare perché altrimenti sì altrimenti facciamo delle cerchiamo di avere il bollino di dire ah siamo stati inclusivi giusto perché hai una hai una protagonista donna però con una caratterizzazione assolutamente piatta perché che non sembra un essere umano vero ma quindi quello non porta da nessuna parte invece vorrei chiedere questo ad Arianna che è veramente impegnata in un discorso di inclusività molto forte con con la sua azienda Sì assolutamente io sono d'accordo con quanto ha detto Elisa stiamo parlando di un prodotto culturale alla fine un prodotto creativo e io me ne sono accorta nel mio lavoro proprio vivendolo sulla pelle che ci sono delle cose che finché non le sentiamo da chi vive ad esempio la disabilità sulla sua pelle non le conosciamo non le possiamo capire però è dall'incrocio di queste esperienze completamente diverse che nascono le idee più belle secondo me ed è questo un po' il punto che forse ogni tanto ci focalizziamo troppo sulle skill quelle come si dice hard quindi la competenza tecnica fortissima ed è quello il focus principale quando magari un'azienda cerca un nuovo dipendente ecco in realtà ci sono una serie di sfumature fondamentali che non riguardano solamente la competenza tecnica quindi quanto sei bravo a utilizzare quel software no cioè c'è anche come come ti componi tu all'interno del team della squadra cioè io voglio veramente un team come diceva Elisa magari di persone tutte uguali che alla fine ripercorrono le stesse esperienze e hanno poi tutte la stessa idea no cioè se io voglio portare sul mercato qualcosa di innovativo di inclusivo che rappresenta tutti io devo essere in grado di avere quella stessa rappresentazione all'interno della mia squadra che ovviamente non può essere qualcosa di estremamente forzato ma deve essere qualcosa di cui da azienda te ne rendi conto tu in prima persona perché sai che includere una determinata voce una determinata persona in un certo discorso allora non ti porta solamente quel vantaggio di immagine fastidiosa di fare un po' di greenwashing o di marketing no ti porta del vantaggio nel lungo periodo perché tu avrai creato una visione della tua azienda completamente nuova diversa creativa perché è data dalla somma di tutte le diversità che ci sono all'interno del team per me è una chiave fondamentale mi lasciate il ruolo corpore no scherzo certo se vi siete comprati Activision Blizzard ti tocca questo ruolo corpore scusami ma è così no comment no per quanto tutto diciamo che tutto quello che hanno detto le ragazze si somma un po' secondo me a quello lo sappiamo e non è non riguarda solo il ruolo della donna riguarda in generale proprio l'inclusività a 360 gradi più siamo inclusivi nella proposta e più siamo inclusivi con le persone che assumiamo lo saremo nella proposta e di conseguenza amplieremo il mercato quindi diciamo che è una situazione win-win sotto tutti i fronti poi voi addirittura senza pensare neanche tanto al mercato avete fatto una console per disabili o comunque per l'Xbox Adaptive Controller che era un'operazione che guardava più cercando di dare un diritto fondamentale perché secondo me il diritto di giocare sia ai bambini che alle bambine è un diritto fondamentale ed è un diritto di crescita che permette l'errore ad esempio e non il gioco educativo perché a me la parola educazione mi fa anche un po' così no no io parlo ludos per ludos cioè nel momento in cui tu apri te stesso a qualcosa che ti permette di immaginare e immaginare magari anche quello che poi farai Eva chiedo a te di aggiungere ancora qualcosa per favore no sì direi che appunto sono ovviamente d'accordo con tutto quello detto e anche in realtà poi dal punto di vista di quello che magari fa Hydra Interactive Studio nello specifico noi ci siamo ovviamente anche molto sempre mossi sul campo della consultazione scientifica e culturale per tutti i progetti che abbiamo fatto e anche dal punto di vista diciamo non prettamente all'interno del core team di sviluppo la diversità di genere è fondamentale anche per il punto di vista aggiuntivo quindi anche partendo dal concept di un progetto e dall'appunto aspetto creativo ma anche da quello appunto dei dati raccolti nel mondo applied games perché spesso appunto ci sono delle cose intrinseche che vengono fuori solo da punti di vista diversi che a volte appunto includono anche la prospettiva femminile piuttosto che quella maschile e poi forse mi permetto di aggiungere anche il videogioco potete aggiungere quello che volete è uno strumento di inclusione quello che stiamo cercando anche di fare noi cioè il fatto che siamo dieci bambini finiamo finiamo la nostra lezione a scuola e vogliamo giocare a un certo gioco una persona non ci può giocare cioè è gravissimo non lasciamo stare quell'aspetto lì cioè è gravissimo è una roba orribile non va bene non va bene e va risolta questa cosa qua come il fatto che magari io da ragazzina non mi senta insomma abilitata a fare quella quell'attività cavolo rimango fuori rimango fuori da quel cerchio quindi alla fine non riesco a trovare quel rapporto con le altre persone cioè secondo me noi siamo state fortunate magari cioè sicuramente brave ma anche molto fortunate di aver avuto intorno delle persone che ci hanno detto no no segui la tua passione fallo e abbiamo avuto la possibilità di farlo perché appunto siamo state incluse nel fatto di poterlo fare però se parliamo anche di disabilità per esempio è una battaglia secondo me da combattere tutti insieme perché non stiamo parlando come dicevi giustamente tu Alessandra di una cosa in più cioè di un diritto fondamentale quello di potersi divertire insieme con altre persone in una sfida alla pari per noi magari è scontato però non è ancora così e forse non ci stiamo rendendo conto di quanto è importante che lo sia che lo diventi per tutti certo guardate su questo sono d'accordissimo Ilaria ci segni volevo dire solo un'ultima cosa sì proprio piccola piccola adesso il calcio in America è uno sport femminile ma soprattutto il più grande schettista al mondo è una ragazza si chiama Sky Brown che pure Tony Hawk ha detto non ho mai visto qualcosa di così fenomenale quindi poi in fondo in fondo il genere dai diciamo su certe cose non esiste proprio quindi ringrazio le mie ospiti potete farvi un piccolo applauso per favore e vi do la parola e voglio tante domande ci sono anche le centometriste domande allora intanto grazie a tutte per l'intervento è molto interessante anche dal mio punto di vista vedere quelle che sono insomma le vostre le vostre esperienze parto un po' da quello che ho letto e vissuto io per poi chiedere una una cosa a voi che appunto le notizie danno appunto il fatto che non è più vero che ci siano più uomini che non donne a giocare ai videogiochi o anche appunto leggendo su storia dei videogiochi si dice a Pac-Man il primo gioco in cui anche le donne iniziano a giocare no è Tomb Raider che include anche le donne e da questo momento iniziano a giocare testate altre hanno detto da Horizon protagonista l'OI quindi adesso le donne iniziano a giocare vengo tra l'altro da una laurea in matematica in cui c'era abbastanza gente anche appunto di ragazze nonostante ci sia anche là come diceva prima Elisa una disparità nelle lauree STEM di percentuale maschile e percentuale femminile però come state dicendo voi ancora adesso abbiamo una sia bassa rappresentazione che una non equa rappresentazione all'interno del settore perché vedendo appunto all'interno della nostra azienda buona parte delle donne sono in alcuni settori che vengono dipinti come più femminili anche Elisa diceva artist ce n'è molte ma programmatrici non arrivano proprio di curriculum per cui non è neanche tanto un livello di chi scegliamo dal punto di vista del colloquio se hard skill o soft skill se non arrivano proprio le candidature se non c'è gente formata che arriva a quel punto là e la mia domanda è in tutto questo tempo e in questo percorso comunque dov'è che si perdono se in partenza c'è ora come ora soprattutto in Italia la possibilità per entrambi di arrivare allo stesso punto allo stesso tipo di formazione secondo me non c'è in partenza non c'è perché il problema in realtà è alla base è culturale ma alla base comunque un po' l'abbiamo detto inizialmente cioè un po' abbiamo toccato in maniera sparsa ma il problema appunto non è tanto quanto mi lauro in informatica posso entrare e mandare un curriculum le ragazze non ci arrivano a iscriversi in informatica ma anche molto prima quando già le superiori iniziano a scegliere altre strade molto spesso comunque sia se le bambine le mettiamo a fare i giochi da femmine e non vengono incluse in tutti gli altri che vengono considerati da maschi quelle cose non le faranno si sentiranno comunque che non appartengono a quel mondo io quando ero piccola ero il cosiddetto maschiaccio che non mi piace assolutamente come termine però da piccola io ero un maschiaccio perché facevo le cose considerate da maschi però appunto come si è detto considerare che queste cose sono da genere o da un altro genere limita tantissimo le persone inizialmente in informatica le pioniere dell'informatica sono state donne tutte donne tutte donne poi questioni puramente di marketing hanno fatto sì che il settore si trasformasse in un settore che puntava agli uomini e quindi le donne sono state tagliate fuori quindi la questione alla fine è una questione culturale quindi il punto di partenza è un punto di partenza culturale per cui se non cambiamo quello non è vero che siamo non è vero che partiamo dallo stesso punto non è assolutamente vero secondo me questo ci sono le possibilità di fare cose per entrambi però il problema è proprio alla base quando una bambina guarda una cosa e dice quella cosa non mi appartiene io lì non ci posso stare perché io lì sarò tagliata fuori ma una ne parlavamo prima fuori le donne in generale hanno un'attitudine diversa ad approcciarsi a determinati campi che ad esempio quando fai scrivi un'application per un lavoro ci sono vari studi che ti mostrano come le donne se non proprio se non ticcano tutti i punti quindi non sono esattamente la persona richiesta e non hanno il profilo perfetto loro l'application non la fanno gli uomini invece se la provano gli uomini tendono ad essere molto più spavaldi più coraggiosi avere molto più coraggio nel fare queste cose però quindi anche se magari sì ne so una su dieci di quelle cose vabbè provo poi imparo però proprio l'attitudine però non è una cosa di genere questa non è che gli uomini hanno questa cosa genetica è che sono stati cresciuti in modo da provare vai fai comunque sia quando ero piccola io ero sempre a rotolarmi praticamente nel fango perché ero una bestia feroce però io avevo le mie amichette che no no perché si sporca la gonna e no perché ti sporchi lì e no questo non lo puoi fare perché no una signorina questa cosa non la fa capito se una bambina la porti avanti così certe cose non le farà mai quindi il problema è culturale in quel senso secondo me e appunto vale per uomini e donne nel senso perché però oggi parliamo appunto delle difficoltà che abbiamo noi però appunto il problema secondo me è che non è vero che partiamo dallo stesso punto di partenza cioè io sono stata fortunata e ero allo stesso punto di partenza in qualche modo però per molte altre non è così non lo era quando ero ragazzina io e credo che non lo sia ancora adesso non so se volete intervenire anche concordo e più che altro appunto il problema è alla base culturale e cioè quello che va modificato è proprio la percezione che si può avere rispetto a una determinata possibilità perché è una cosa inconsapevole data da appunto il modo in cui ci vengono magari insegnato o veniamo messe a contatto con diverse situazioni però è proprio la percezione che probabilmente le ragazze hanno di più rispetto ai maschi di dover affrontare una cosa in un determinato modo rispetto ad un altro e questo appunto ha la base primariamente è culturale è vero sì posso fare un io sono proprio di un'altra generazione rispetto a loro quando ti dicono noi rispetto ai maschi non partiamo dallo stesso punto ti racconto questo quando ero all'elementare facendo lo stesso il giretto tu cosa vuoi far da grande tu cosa vuoi fare da grande non so se si usa ancora ma quando ero piccola io si usava io osai dire che da grande volevo fare il marinaio non avete idea di cosa sia successo ancora un po' chiamavano mia madre a parte che si sono messi tutti a ridere in più la maestra mi spiegò che le donne non potevano fare il marinaio perché era vero all'epoca le donne non potevano fare il marinaio non potevano entrare a fare il lungo corso in marina e non esistevano neanche nei carchi se non probabilmente per fare le cuoche donne marinaio quindi no non è la stessa cosa dire che un uomo della mia generazione e neanche quelle dopo partiamo alla pari per andare a fare determinate cose c'è non so quando è stato aperto certe facoltà alle donne e quindi è naturale che la rappresentanza sia minore e anche naturale soprattutto la trasmissione di questa rappresentanza perché è naturale che se tu hai una madre che è professoressa di matematica non ha nessun problema di dire o di indirizzarti però la maggior parte di noi non ha la madre che è una professoressa di matematica o lavora in un'azienda come ingegnera guarda la ragazza che abbiamo assunto che è programmatrice da noi che è laureata in ingegneria informatica lei lei mi ha raccontato di recente che in realtà ha avuto anche una brutta esperienza mentre sceglieva le superiori nel senso che andava a guardare le scuole e il direttore di una di queste scuole tecniche praticamente la guardava strano di boe ma sei una ragazza cosa viene a studiare sta roba qua quindi ha scelto un'altra scuola però quindi degli ostacoli ci sono sicuramente quindi se ti di recuperare il gap che c'era prima altre domande? voi che sempre considerando comunque il fatto che come ha detto Arianna stiamo pian piano molto piano andando comunque verso una situazione migliore secondo voi considerando il videogioco come comunque un mezzo con un grandissimo impatto culturale ma comunque tenendo in considerazione che per gli stessi problemi di cui di cui prima non ci sono poi così tante videogiocatrici cioè ci sono ma numericamente sono proprio diverse quanto può essere utilizzato il videogioco in sé per sé proprio per muovere questa questo questo cambiamento insomma questo miglioramento secondo me hai toccato un punto chiave nel senso che riguarda anche poi un po' proprio il fatto di sentirci legittimati e mi insomma riaggancio anche a quello che dicevamo prima di poter immaginare quella cosa lì che è fatta anche per te quindi secondo me chi crea il videogioco i videogiochi ha un ruolo fondamentale perché più riesce ad attrarre no? anche nuovi target di persone che magari fino adesso non erano immaginati oltre a parlo tra l'altro in un discorso anche secondo me mi rivolgo alla corporate in un'ottica di incrementare il suo fatturato diciamoci anche le cose come stanno fai anche una mossa diciamo importante per il tuo business soprattutto lo rendi lo rendi attrattivo e quindi lo normalizzi che è forse un po' il tema e passa anche per un discorso di team credo alla fine riuscire a creare un prodotto che rispecchi i valori i pensieri magari le caratteristiche non solo del target medio dell'uomo medio del maschio alfa medio che gioca al videogioco no cioè devo riuscire a rappresentare anche delle individualità diverse più lo faccio più rendo anche facile magari una persona appunto che non si riconosce in quello stereotipo lì di poterci giocare avvicinarsi detto ciò anch'io riprendo il discorso di Elisa magari noi siamo state fortunate perché io ho avuto un papà che mi diceva ma chi se ne frega cioè se vuoi giocare a calcio vai a giocare a calcio e quindi per me non c'era neanche quel limite lì di dovermi sentire rappresentata da una determinata cosa quindi può essere uno strumento quello il problema resta comunque alla base nel potermi dire che voglio giocare a un gioco di guerra giocare a un gioco di guerra cioè chi se ne frega voglio giocare ai pokemon giocare ai pokemon non è che quel gioco è più da femmina più da maschio più da bambino più da adulto riuscire ad assecondare poi tutte le le proprie passioni a prescindere da chi è la persona per cui sono state pensate chi è la la persona veramente che si sono immaginati quando l'hanno creato ti rispondo anch'io su questo perché secondo me tu hai fatto la domanda giusta cioè il gioco è strumento per me lo è stato io mi sono appassionata ai videogiochi e non a caso il mio preferito è la Face Strange perché ho trovato tutti gli ingredienti di cose che amavo la storia una graphic novel ci sono protagonisti femminili ci sono i superpoteri che mi sono sempre piaciuti in altri ambiti sono una gran fan degli anime per esempio e ho trovato un teen drama io ho guardato tutti i teen drama possibili e immaginabili e ho trovato in quel videogioco tutti gli ingredienti della ricetta che mi piaceva quindi sì per me è stato uno strumento per aprirmi ad un mondo che poi mi ha appassionato tantissimo per cui senz'altro anche il fatto non lo so che ci sia uno schermo se io sto giocando online contro di te mettiamo e stiamo giocando allo stesso gioco in realtà è uno strumento di inclusione anche in quel senso perché tu insomma se non metto un nome femminile al mio personaggio per esempio non sai chi sono io da dove sto giocando quanti anni ho chi mi piace cosa mi piace tutto quanto sono semplicemente un giocatore identico a te e questa è un'altra forza secondo me del videogioco che la tecnologia ti abbatte anche con la diversità perché in quel momento cadesse il mondo siamo due persone identiche che stanno facendo la stessa cosa si stanno divertendo stanno giocando insieme forse questa potrebbe essere un'altra cosa da spingere beh anche oggi ad esempio le metriche in cui misuriamo a chi ha indirizzato un gioco non sono più quelle non è che si dice maschio 15 25 anche perché sono un po' superate oggi quindi stare un po' fissati a quelle a quel tipologio di metriche è abbastanza antiquato oggi ragioniamo in termini di personas quindi tipologia di giocatore che fa una determinata cosa poi magari quella tipologia di giocatore può essere in maggioranza uomini maggioranza donne oppure essere in parità però si ragiona più in termini appunto di giocatore quindi a cosa piace quel tipo di giocatore che caratteristiche ha che tempo ha ad esempio ci sono degli studi che ci mostrano come i ragazzi fino ai 20 anni magari giocano tantissime cose competitive e distruttive poi il tempo non ce l'hanno più quindi iniziano ovviamente poi iniziano a passare a omologarsi un po' di più in realtà uomini e donne dopo una certa età più o meno giocano anche alle stesse cose in molte cose quindi iniziamo a ragionare più in termini di giocatore e basta e quindi in quello sì davvero noi non sappiamo magari tra lo schermo sei un uomo o una donna e cercare ogni volta che raccontiamo una storia cerchiamo di raccontare una storia che alla fine sia universale quando diceva Alessandra prova delle donne piatte come storie e cose appunto la questione è quella nel senso noi siamo cresciute guardando dei personaggi maschili e riuscendo benissimo a identificarci con loro perché erano scritti bene quello che avevamo quello che avevamo però erano magari anche nel cinema personaggi maschili scritti bene personaggi che sono personaggi a tutto tondo quindi la stessa cosa se viene fatta con un personaggio femminile è perfetta ma anche gli uomini riescono ovviamente a identificarsi con quello che è quello che passa e quello che succede a un personaggio femminile perché le storie sono universali non è perché l'altra o una donna non riesce a capire le sue problematiche però quindi secondo me riuscire a rappresentare veramente bene tutto questo aiuta assolutamente a livello culturale a vedere che non c'è poi tutta questa differenza e comunque le storie sono per tutti da tutti e per tutti quindi Eva vuoi chiudere tu? no sì credo che appunto i videogiochi siano la chiave e non non solo diciamo anche il videogioco diciamo classico ma anche proprio con ovviamente in futuro spero che ci sia anche una secondo me dovrebbe esserci una modifica anche della didattica magari nelle scuole con appunto l'utilizzo dei videogiochi anche per incrementare aspetti come appunto l'inclusione sicuramente sì io direi che abbiamo chiuso qui volevo ringraziare idea per aver organizzato questo incontro per un tema che per me è molto importante e vi chiedo di fare un applauso per Maria Luce Eva Arianna ed Elisa grazie 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 a tutti